Vediamo come si potenzia il prodotto Non si apre La prima cosa che salta all'occhio è la qualità costruttiva In quanto i materiali sono molto buoni Tagliati a laser con cuciture a vista Come potete vedere Linguette per prendere Un elastico che corre lungo tutta la superficie Come vedete Molto molto duro e resistente Made in china Ben in chiare lettere Ma comunque molto rifinito Questo ve lo posso assicurare Vedete come l'elastico è molto duro I tessuti sono molto spessi Linguette ben fatte Ha un sistema molle anteriore Quindi si possono applicare altri sistemi In caduta Più un sistema molle posteriore Che è quello per applicarlo sulla cintura Anche l'automatico è ben fatto Ha un sistema in acciaio Più un sistema molle Come vedete qui ulteriore Quindi questo dà una flessibilità totale Per quanto riguarda l'inserimento Sulla propria cintura Una fettuccia sotto Anche per delimitare la chiusura E vedete che comunque Questo è lo spazio che consente Più ovviamente l'elasticità Dell'elastico Siamo intorno ai 2 cm Per circa 3-4 cm Che però comunque È molto estensibile In funzione dell'elastico 3 cm e mezzo in larghezza Per quanto riguarda L'altezza totale È intorno agli 11-12 cm Quindi devo dire un bel prodottino Per quanto riguarda l'elastico Per quanto riguarda l'elastico